Lo usiamo per preparare i nostri piatti preferiti. Ma sai che l'aceto di mele ha benefici insospettabili? Ecco 7 buoni motivi per utilizzarlo. Guarisce il mal di stomaco Se hai mal di pancia, versa qualche cucchiaio di aceto di mele in un bicchiere d'acqua e bevi il tutto. Prima dei pasti Mescola un cucchiaio di miele, un cucchiaio di aceto di mele e l'acqua e bevi il preparato 30 minuti prima dei pasti. Allevia il mal di gola Versa 4 cucchiaini di aceto di mele in una tazza e diluisci con acqua. Bevi 3 o 4 tazze del preparato al giorno e il mal di gola sparirà. Contrasta il colesterolo Due cucchiaini di aceto di mele, ogni sera prima di andare a dormire, fanno ridurre il tasso di colesterolo. Aiuta a liberare il naso chiuso Sei malata e hai il naso chiuso? L'aceto di miele è un rimedio naturale. Mescola miele, aceto e acqua e bevi il tutto. Tornerà in forma. Aiuta a dimagrire Insieme all'alimentazione sana e all'attività fisica, l'aceto di mele aiuta a perdere peso. Regola l'appetito, aumenta il metabolismo e riduce la ritenzione idrica. Addio brufoli Grazie alle sue proprietà antibatteriche, l'aceto di mele rende la pelle liscia e chiara, priva di imperfezioni. Da applicare con un batuffolo di cotone direttamente sulla pelle. Grazie a tutti. Grazie.